Ministero profetico apostolico della Bibbia Del missionario Ewald Frank Il missionario Ewald Frank da oltre 40 anni ha predicato in più di 130 nazioni Egli è conosciuto per aver pubblicato differenti libri, trattati, programmi radio e televisivi Il suo genuino insegnamento apostolico è apprezzato dal popolo di Dio intorno al mondo Cari amici, amati fratelli e sorelle in Cristo E' il fratello Frank che vi parla dal centro missionario di Krefeld in Germania Noi chiamiamo questo ministero Ministero profetico apostolico di insegnamento biblico E ci indirizziamo a tutte le nazioni sulla terra Che noi desideriamo raggiungere in modo che nessuno possa prendere delle scuse al ritorno di Cristo Noi crediamo nel vero pieno Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo Nel vero senso della parola in cui crediamo Nella diretta dottrina e pratica apostolica Non le cose che sono state insegnate, predicate e gestite 100 o 200 o 300 anni dopo Per noi gli insegnamenti apostolici sono solamente nel libro degli atti e nelle lettere degli apostoli Non si trovano in nessun libro di Chiesa, in nessun catechismo E nemmeno nel piccolo libretto chiamato La dottrina dei dodici apostoli Solamente questo libro porta il sigillo di Dio E se tornate in Atti capitolo 2 Quando lo Spirito Santo cadde e nacque la Chiesa del Nuovo Testamento E fu riempita con lo Spirito Allora il Signore ebbe la sua via E noi guardiamo indietro a un periodo di 2000 anni In cui ci sono state delle deviazioni E sono state introdotte molte dottrine Come la dottrina della Trinità Il Battesimo Trinitario L'aspersione dei bambini Molte cose sono state introdotte nella Chiesa Ma la Chiesa di Gesù Cristo è diversa Dalla Chiesa di Stato romana Che è sorta dal tempo di Costantino Quando il primo concilio fu tenuto a Nicea Nel 325 Da quel momento in poi Gli sviluppi nell'impero romano Furono tali Che proprio nell'anno 500 Il clero era già stabilito Pagato dallo Stato Ed è continuato in ogni maniera Le cose sono state aggiunte Insegnamenti di Chiesa Furono aggiunti dei dogma E se osservate ciò molto attentamente Tutte le cose sono state interpretate e cambiate E infine Non troviamo Nella Chiesa di Roma Una sola dottrina Che sia al 100% in accordo Con le Sacre Scritture Le Sacre Scritture Non conoscono nulla Almeno nella Chiesa di Gesù Cristo Sui Papi O sui Cardinali O in merito ai monasteri O del sacerdozio O del clero La Chiesa del Dio vivente È il corpo di Cristo Membri viventi Battezzati Con lo Spirito Santo In un corpo Che è Il corpo di Cristo Con doni diversi E ministeri diversi Poi Se guardate Dritto In primo Corinzi Capitolo 12 Ci viene parlato Dei diversi Ministeri Che il Signore Ha posto Nella Chiesa Lo stesso Spirito Lo stesso Signore Lo stesso Dio E poi sta scritto In primo Corinzi Capitolo 12 Versetto 4 Ora vi è diversità Di doni Ma vi è un medesimo Spirito Vi è diversità Di ministeri Ma non vè Che è un medesimo Signore Vi è varietà Di operazioni Lo stesso Signore Lo stesso Dio Ogni cosa La stessa E l'Apostolo Paolo Lo porta Al punto Un solo Signore Una sola fede Un solo battesimo In Efesini Capitolo 4 Ora cari Qui continuiamo A leggere Ora a ciascuna è data La manifestazione Dello Spirito Per il bene comune Per l'utilità Di tutta la Chiesa Ogni ministero Ordinato da Dio È dato In modo che Tutto il corpo di Cristo Sia edificato Voi potete continuare E continuare a leggere Tutti i doni E tutti i doni Dello Spirito E i ministeri Li trovate Registrati qui Anche nel versetto 9 A un altro Fede Dal medesimo Spirito A un altro Doni di guarigioni Per mezzo Del medesimo Spirito Poi Lo stesso Spirito Dona Conoscenza E sapienza Non conoscenza mentale Non sapienza mentale Come leggiamo Nel versetto 8 A uno infatti È data Per mezzo Dello Spirito Parola di conoscenza Qui Non è un dono Ma la parola di conoscenza Ad un altro Parola di sapienza Così abbiamo Diversi doni Diversi ministeri Ma lo stesso Spirito Lo stesso Signore Lo stesso Dio Che opera Tutto in tutti Poi Cari Ci conviene Investigare La parola di Dio Per conoscere Il piano E il programma Di Dio Per oggi Per essere Aggiornati Nel regno Di Dio Cari Ci sono state Promesse E profezie In riferimento Alla prima venuta Del nostro Signore Salvatore E quando Egli è venuto I suoi Non l'hanno ricevuto Perché Gli insegnanti Di quel giorno Costrinsero Le persone A credere Alle loro Interpretazioni E non All'effettiva Parola promessa Di Dio La promessa Era In Isaia Capitolo 40 Versetto 3 Una voce Avrebbe Gridato Nel deserto Preparate La via Al Signore Allo stesso Modo Noi leggiamo Noi leggiamo In Malachia Capitolo 3 Versetto 1 Io Mando il mio Messaggero Davanti Davanti La mia faccia Per preparare La via Davanti a me Gli insegnanti Continuavano Con i loro Servizi Con le loro Interpretazioni Cantavano Salmi Salmi Con Alleluia Allo stesso Tempo In cui Dio Ha Fatto La storia Sulla Terra Quando Le profezie La Bibbia Si sono Adempiute Quando Irruppe Il regno Di Dio Allo stesso Tempo Le persone Si ammaestravano A vicenda Dando le loro Interpretazioni Di generazione In generazione Cari Quattromila anni Erano passati Da quando La prima Promessa Fu fatta E data In Genesi Capitolo 1 E anche Specialmente In Genesi Capitolo 3 Versetto 15 In merito Alla semenza Della donna Che doveva venire Che fu Cristo Per schiacciare La testa Del serpente Per vincere Satana La morte E l'inferno Per pagare Il prezzo Sulla croce Del calvario Per spargere Il suo sangue Per dare La sua vita In modo che Fossimo Redenti Dal potere Di Satana E che fossimo Portati Dall'eterno Senebre Alla luce Dalle nostre Proprie vie Nelle vie Di Dio Cari Se non Riceviamo La promessa Un ministero Che Dio Ha mandato Che Dio Ha ordinato Passiamo Accanto A ciò Che Dio Sta facendo In questo Momento Non è sufficiente Guardare indietro E dire Che l'hanno Mancato Duemila Anni Fa Se lo Manchiamo Oggi Il loro Errore Non giustificherà Mai Il nostro Errore Cari Sto per dirvi Che siamo così vicini Alla seconda venuta Di Cristo Promessa In Giovanni Capitolo 14 In modo Molto speciale Amati Adesso Dobbiamo Conoscere Il piano Di Dio La parola Promessa Di Dio Perché I veri Figli Di Dio Sono Figli Della Promessa Condotti Dallo Spirito Santo Promesso Nella Parola Promessa Per Comprendere Ciò Che Dio Sta facendo In questo Momento E avere parte In ciò Che Dio Sta facendo Adesso Cari Io sono Nel regno Di Dio Dal 1949 Dio Mi ha dato Un grande Privileggio Di partecipare A questo Ultimo Risveglio Di salvezza E guarigione Già Negli anni 50 Ho incontrato Il fratello William Branham E poi Tutti gli altri Evangelisti Che sono Diventati Famosi In tutto Il mondo Già Negli anni 50 E negli anni 60 Cari Sto per dirvi E devo fare Così Che Dio Ha mandato Un messaggero E' stato William Branham Che Egli ha scelto Io Non ho scelto E' lui Che sceglie Il suo Proprio Uomo Che lo Incarica E cari Come ho detto Ho incontrato Il fratello Branham Ho incontrato Anche tutti Gli altri Evangelisti E non per Criticare Ma l'unico Uomo Che poteva Dire Il giorno Il tempo E l'anno Quando il soprannaturale E' disceso Quando la luce soprannaturale Fu vista Nella sua stanza E quando l'angelo del Signore Si fermò Davanti a lui Dicendo Sono inviato Dalla presenza Del Dio Onnipotente Per darti Il tuo Incarico Cari Io non sono qui Per presentare Un uomo Sono qui Per presentarvi Il ministero Profetico Apostolico Di insegnamento Biblico Non solo Nell'Antico Ma anche Nel Nuo Testamento Abbiamo la promessa Che Dio Avrebbe inviato Un profeta Prima che venga Il grande Terribile Giorno Del Signore E quindi Devo dirvi Forse Nessun altro Lo farà Ma già Nel 1950 Gordon Lindsay A Dallas Nel Texas Negli Stati Uniti Ha pubblicato il libro William Branham Un uomo Mandato Da Dio Ha anche pubblicato La foto Con la luce Soprannaturale Sopra Il capo Del fratello Branham Che è stata Scattata Nel gennaio 1950 All'Uston Colosseo Alla presenza Di oltre 8000 persone Cari Sto citando Queste cose Semplicemente Per farvi sapere Che Dio Sta già facendo Qualcosa E qualunque cosa Fa Dio E al di là Della nostra Comprensione E spiegazione Ma è sempre Per la Chiesa E sempre Per il beneficio Di quelli Che credono Dio E cari Potremmo Rientrare In molte scritture Ma lasciate Che vi dica Anche questo Che a William Branham Non fu dato Solo Un incarico Speciale Il Signore Il Signore Ha confermato La parola Come mai Prima Dal tempo Di Gesù Cristo E degli Apostoli E poi È accaduto Che il fratello Branham Vide una nuvola Soprannaturale Che scendeva Sette esseri Soprannaturali Erano in quella nuvola E la rivista Scienza Dell'aprile 1963 Ha pubblicato La foto Della nuvola Soprannaturale Che era apparsa Dove il fratello Branham È andato Col Signore E improvvisamente Ci furono Sette rombi Di tuono E la nuvola Soprannaturale È apparsa E a quest'uomo Di Dio Fu detto Che era giunto Il momento Di aprire Sette suggelli Che egli Doveva ritornare Nella sua chiesa locale A Jeffersonville E poi Nel marzo Del 1963 Dal 17 Al 24 Egli parlò Sui suggelli Che si trovano Nel libro Dell'Apocalisse Cari C'è qualcos'altro Che ho bisogno Di dirvi In riferimento Al giorno Del Signore Ora Siamo ancora Nel giorno Della salvezza Nel tempo Della grazia Di cui i profeti Dell'Antico Testamento Hanno testimoniato Come ad esempio In Isaia Capitolo 49 Nel versetto 8 Leggiamo Così dice il Signore Io amo Il così dice il Signore Voi non avete bisogno Della mia parola E io Non ho bisogno Della vostra parola Ma noi tutti In questi tempi In questi tempi Tragici Abbiamo bisogno Del così dice il Signore E questa parola È Il così dice il Signore Leggo di nuovo Isaia Capitolo 49 Versetto 8 Così dice il Signore Nel tempo Della grazia Io ti ho esaudito E nel giorno Della salvezza Ti ho aiutato Paragonate questo Con due corinzi Capitolo 6 Versetto 2 Dove l'Apostolo dice Questo è il giorno Della salvezza Questo è il tempo Accettevole Poi Se andate In Isaia Capitolo 13 Il Signore parla di nuovo Attraverso il profeta Isaia Capitolo 13 Versetto 6 Urlate Perché il giorno Dell'Eterno È vicino Esso viene Come una Devastazione Da parte Dell'Onnipotente E poi Potete leggere L'intera descrizione Ciò che accadrà Quando verrà Il giorno Del Signore Il giorno Dell'ira Ardente Versetto 10 Poiché le stelle Del cielo E le loro Costellazioni Non faranno Più Brillare La loro luce Il sole Si oscurerà Al suo Sorgere E la luna Non diffonderà Più La sua luce Poi potete leggere E leggere Lungo tutto L'Antico Testamento Anche nel profeta Geremia Nel capitolo 30 Leggiamo in Geremia Capitolo 30 Versetto 7 Ahimè Perché quel giorno È grande Non ve ne fu mai Alcuno simile Sarà un tempo Di angoscia Per Giacobbe Ma egli Ne sarà Salvato Qui ci avviciniamo Al punto Sarà intorno Al tempo Dell'angoscia Per Giacobbe Amati I cari figli Di Israele Hanno avuto Un tempo Difficile Lungo tutta La storia Ma se guardate Alla seconda Guerra mondiale Sei milioni Sono stati Uccisi E in ogni Maniera Miei cari Ci sentiamo Dispiaciuti Per questo E avremmo Voluto Che ciò Fosse Stato Evitato Nonni E nonne Neonati Bambini Tutti Sono stati Uccisi E gasati È il tempo Dell'angoscia Per Giacobbe Ma quando Il giorno Del Signore Verrà Allora Sarà Realmente Troppo Tardi Ora È il tempo Lasciate Che Vi legga Dal profeta Gioele Sono così Felice Che abbiamo Questa informazione Nella santa parola Di Dio Nel profeta Gioele Nel capitolo 2 Leggiamo qui Molto Chiaramente In merito Al giorno Del Signore Nel versetto 31 Il sole Sarà mutato In tenebre E la luna In sangue Prima che Venga Il grande E terribile Giorno Del Signore Cari Se leggete Matteo Capitolo 24 In cui Il Signore Tratta Il diretto Tempo Della fine Guerre Rumori Di guerre Tutte Queste cose Che arriveranno Sopra L'umanità E poi Ovviamente Vediamo Qui In Matteo Capitolo 24 Versetto 29 Sta scritto Subito Dopo La tribolazione Di quei giorni Il sole Si oscurerà La luna Non darà più Il suo splendore Voi potete Continuare a leggere Qui Il nostro Signore Parla Dell'albero Di fico Che mette Le foglie Israele Ritorna Nella terra Natia Promessa Ad Abramo Dal Dio Onnipotente E il Signore Dice Che dopo Questa Tribolazione La luna Sarà Oscurata E il sole Non splenderà Più E se andate In Atti Capitolo 2 Abbiamo Di nuovo L'Apostolo Pietro Che cita Le stesse Parole Dal profeta Gioele In Atti Capitolo 2 Nel versetto 20 Il sole Sarà Mutato In tenebre La luna In sangue Prima che Venga il grande Glorioso Giorno Del Signore Cari Ora Rapidamente Alla promessa Nel profeta Malachia E per favore Non ditemi Che questa promessa Non è valida Per favore Dovete parlare A qualcun altro Qui sta scritto In Malachia Capitolo 4 Ecco Io vi mando Il profeta Elia Prima che Venga Il giorno Del Signore Giorno Grande E terribile Questo passo Della scrittura Questa promessa Non si riferisce Al ministero Di Giovanni Battista Il quale venne Nello spirito Nella potenza Di Elia Prima che Iniziasse Il giorno Della salvezza Adesso Noi siamo Alla fine Del giorno Della salvezza E romperà Il giorno Del Signore E prima che Venga questo Giorno E ciò Dovrà essere Proprio Alla fine Del giorno Della salvezza Alla fine Del tempo Della grazia Quando ci sarà La chiamata Fuori Quando il vero Vangelo Il Vangelo Eterno Del nostro Amato Signore Salvatore Sarà predicato A tutte le nazioni Il nostro Signore Ha confermato Questa promessa Certo Elia Deve venire E ristabilire Ogni cosa La mia domanda È Ha Dio mantenuto La sua parola E adempiuta Questa promessa E se è sì Dove E come Dio vigila Sulla sua parola E il tempo È il tempo È giunto Per tutti i figli Di Dio Di essere Portati fuori Dai loro Propri Programmi Il che talvolta dura Dal mattino Fino alla sera Così tanti programmi Non ci sono Mai stati Sulla terra Tuttavia Lasciate che infine Vi dica Io non desidero Essere partecipe Del mio programma Né del programma Di qualcun altro Io desidero Far parte Del piano Del programma Di Dio In questo tempo Così Dio vigila Sulla sua parola Ed egli ha mandato Un ministero profetico Non affinché voi E Dio Passiamo accanto Ma per trarne beneficio E per ritornare Al Signore E alla sua parola E lasciate Che alla fine Le cose siano Come erano Al principio Possa Dio Benedirvi Ed essere con voi Nel nome santo Di Gesù Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti